se non si sente questa volta la colpa mia che c'ho la voce all'occhio e non è del microfono ma mia questo è il posto alzato innanzitutto un caroloso benvenuto a tutti voi parliamo oggi dell'ultimo libro di Antonio Cassese che è stato presidente del Tribunale Penale Internazionale per i crimini della ex Yugoslavia e del Tribunale Speciale per il Libano tra i suoi scritti ricordiamo i diritti umani oggi e umano disumano, voci contro la barbarie sono con noi Lago Pistelli, Adriano Sofi e Giorgia Coliva io darei subito la parola, se siete d'accordo, a Giorgia Coliva va bene? va bene a me? proprio come un disincantato realismo dentro e oltre la cerchia iscritta degli specialisti con l'esperienza animale Antonio Cassese intende proporre l'attenzione della società civile la grande attualità, non tanto e non solo del male filosoficamente inteso quanto delle esperienze che la sua coscienza di avuto osservatore e interprete ha compiuto di guerra, torturi, genocidi, terrorismi nella lunga e dettagliata intervista che compone il suo libro conversando con il giornalista Giorgia Coliva Cassese scompone e ricompone analiticamente l'esperienza del male per la trattazione di un tema così come questo dichiara di essere delitore tanto di una lunga tradizione di riflessione filosofiche quanto di un modo empirico di guardare la storia o di poter toccare con mano moltissime situazioni frutto di malvagità e desideri di istruzione Giorgia Coliva grazie 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 Grazie